E' scattato il conto alla rovescia per il Ponte dei Santi e c'è grande attesa per l'apertura degli impianti scistici in Lombardia. Ma stavolta chi sogna piste innevate e rifugi caldi dovrà pazientare qualche giorno in più, ovvero fino a sabato 5 novembre, causa il gran caldo che ha fatto fino a poche settimane fa. A dare il via sarà Bormio, seguita da Madesimo il 12 novembre, poi entro metà mese, sci e racchette anche in tutte le altre località turistiche lombarde. Quelle più conosciute, lo dice una recente ricerca, sono Bormio che ha raggiunto quota 90,8% e Livigno con l'86,1%. Seguono Ponte di Legno e la zona dello Stelzio. Nota positiva, nonostante la crisi l'autunno 2011, ha segnato un aumento delle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Una tensione di più è ancora meglio finalizzata al rapporto qualità-costo e che voce a vantaggio per le tante strutture che noi abbiamo a disposizione che possono arrivare dall'hotel a 5 stelle fino al bed and breakfast.